Vizio Hill, eccola, buona, ancora difficoltà per guerra, ricezione, e l'attacco di Luizio che mette giù, sì, molte delle difficoltà di Casalmaggiore sicuramente, se Cruyff ancora al servizio è buona, deve correre, si resti questa volta in bagger, qualche difficoltà come diceva Silvia in poco fa, attacca il braccio armato di Vizio che mette giù un altro punto, Sì, diventa più facile per Conegliano perché comunque arrivano delle palle facili nel nostro campo e ascia solo l'imbarazzo della scelta, abbiamo visto attaccare De Cruyff, Brissio, Nicoletti, Hill, Volosch, Anastasia Guerra, il bagger rondon che poi va su, mamma mia che muro, sì, un muro di Samantha Brissio, Melandri Brissio ma è un muro di Samantha, che non si è scomposto così tanto, no, era più contenta Laura che Samantha, ma il muro è della Messicana. Buona la battuta, si allunga con il bagger Hill, poi arriva la palla a Brissio che costringe ad una tipica... Sì, è un attaccante di altissimo livello però ovviamente nel momento in cui la ricezione... Ed ecco la Brissio che fa aprire il muro, mamma mia, e allora chiude 25 a 15 il primo set, dimmi Silvia. No, dicevo che nel momento in cui la ricezione non permette altro che un'alzata scontata a Martinez, ovviamente la nostra difesa è il nostro muro che non è un muro basso, ma è un muro veramente alto, rende difficile... Hill, Volos che gira per Brissio e piega le mani al doppio muro di Guigi e Anastasia Guerra, che ha un volto tiratissimo dall'inizio della gara. Ma non credere, io la vedo giocare da quando ha 14 anni, lei ha fatto il suo giovanile a Bassano, a 15 anni sembrava già una professionista, aveva già quel viso imperturbabile che ha adesso, quindi... Non facciamoci ingannare. No! Aia! Ma li abbiamo portato male, li abbiamo portato male, li abbiamo portato male, uno batte Melandri, Martinez, lo bianco che spinge su Anastasia Guerra, si rigioca con Conegliano ancora, dietro... Ehi, Melandri! Questa palla di Melandri! Gran palla! Indietro! Ancora Brissio, buona la ricezione, Volos in bagger e allora prova a chiude... Gran palla di Chamberlil! Peccato, è stata brava Guerra questa volta, muro a tre che viene sorpassato, poi tiene il muro a uno di... Volos per Melandri che non chiude, Martinez in bagger dalla parte opposta, in bagger pure Mocchi de Gennaro, e allora Melandri che ci riprova per la seconda volta, viene rigiocata, attacca di Sara Pavanna, attacco di Sara Pavanna ancora, si rigioca, Volos per Brissio, prova il pallonetto, Geronetto, Guerra che costringe le sue ad una rincorsa, forse è nata per prendere questa palla, non ce la fanno ed è punto Conegliano, lasciata andare, Melandri, lo bianco che guarda, poi serve Guerra, nulla da fare, rigioca Conegliano l'attacco con Volos che sceglie, Brissio che smartella al centro per Martinez, non c'è nulla da fare, Conegliano in vantaggio, Brissio, Volos in bagger, ancora Brissio che va ad aprire il muro, non ci arriva Leo Bianco perché ragazzi miei... Casal Maggiore, si scalda Fabris dalla parte opposta, è buono l'attacco di Brissio, è buono questa volta, 21 a 20, 21 a 20, proviamo ad accorciare, ha levato la tuta Samantha Fabris e ha levato la tuta anche Cella, però poi Cella mi pare che... buona la battuta, Kimberly Hill, poi Volos che vada a Brissio, che piega prima le mani al muro, poi non tiene, non tiene... Sarapavan, il Volos che scivola lunga per la schiacciata decisiva di Samantha Brissio, che stringe il campo, accorcia la diagonale di Samantha Brissio che va al servizio, grande spalla di Samantha Brissio, si resti la tiene in qualche maniera, poi Martinez prova ad attaccare, Martinez ancora dalla parte di Conegliano, può rigiocare Conegliano l'attacco di Kimberly Hill, ancora si salva Casal Maggiore, in bagger lo bianco, fa di tutto per tenerla, Volos, poi arriva, Monica De Gennaro è stata crema, l'attacco teniamo ancora, con Pavani che la mette solo in bagger, solo in palleggio, aia, eeeh, e punto in palleggio di Samantha, però non bella pallavolo, no, no, non bello, non bello lo scambio per carità, non bello a pallavolo neanche da parte di Casal Maggiore, tanti, anche se mi sento di parlare bene di quello che ha fatto Mettura 2. Leo Bianco in bagger con Pavani, anche lei in bagger, e allora Conegliano prova ad attaccare con Samantha Fabris, rigioca, rigioca Pavani dalla parte opposta, ma tiene il muro di Brissio, si, tiene il muro di Brissio, e anche in questo caso nessuna gioia da parte di Brissio, nessun tipo di emozione, esatto, ormai la conosciamo così, sappiamo com'è, e ci va bene, ha delle capacità straordinarie, Brissio in bagger per Volos, ancora Brissio che chiude, 24 a 20, tirano un sospiro di sollievo, 24 a 20 con Volos che va, a cercare di mettere in pavano, Pavani, difficoltà in ricezione per Conegliano, che adesso ci pensa, o stava per pensarci Samantha Brissio, dalla parte di Martinez che la mette di là, allora ancora Samantha Brissio, e ancora Martinez bombardata, con una ricezione brutta, Volos che gira per Brissio, Sirressi in bagger per Martinez, che prova a sventagliare di là, non ci riesce, e allora ancora un tentativo di pallonetto, Volos che sceglie, Nicoletti, Murata, Volos ancora, che lungo scambio, con Martinez, scusatemi, con Brissio, che la mette in mezzo, a Sirressi e a Stancevic, a Stancevic, palla, gran palla, perché la mette in zona 6, e sono solo due in difesa, sono state anche sfortunate in questo caso, bisogna dirlo, eccola la sua battuta, Volos che sceglie ancora una volta Brissio, che prova il pallonetto, ma non riesce a mettere a terra, la palla spinta dalla parte opposta, ancora, Brissio in bagger, poi dal centro, Kimberlin, non mette a terra questa palla, Pavan, la stessa identica azione di prima, questa volta però gioca, ancora con Brissio, sul muro, spara su Stefanovic, non tiene il muro, e c'è il punto numero 6, buona, vuoi giocare, Colegliano cerca di passare, ci riesce questa volta Brissio, bel pallonetto di Brissio, la sua battuta, la forza, Volos che cerca per Brissio, poi Martinez in bagger, ma la palla non arriva di là, aveva fatto un piccolo miracolo, usate no? Sì, esatto, ma non per la postazione della partita, per altre, va bene, Brissio al servizio, ehi, Brissio, bella palla, bella palla, per Limoco, Kill, Rondon che replica, mette giù Stancevic, cioè la palla va dentro, è punto per Colegliano, si, e viene murato, toccata da Stance, quindi ultimo punto, e 3-1 per Colegliano, che mantiene la meta della classifica, e va, è ancora più due, da Ligor Bolle Novara, che ha vinto a Bustassizio, comunque una gara completa,